Ciao, questo è un saluto speciale da Padova per Franco Peluso e la sua famiglia, per Mari D'Accunto, per Manolo Ghionna della Luna nel Pozzo, per i signori di Casa Vestita, per tutti gli amici di Grottaglie e Slow Food Vigne e Ceramiche, un caro affettuoso augurio di buon Grottaglie! Buon Natale! Ciao! Buongiorno!